E' di scena, quindi ci fa bene ridere con Marco Capretti! Eccoci qua, caro Marco! Ben arrivato, da Made in Sud, adesso questa nuova avventura che ti vede anche in veste di conduttore con SCQR, quindi come ti prepari al tutto? Che tipo di conduttore sei? Beh, ovviamente io faccio il comico, faccio il cabarettista, quindi darò un'impronta ovviamente comica. SCQR è una trasmissione importante per noi, non solo noi comici, ma secondo me è importante un pochettino anche per la nostra città, voglio essere un pochettino sbruffone oggi, ma perché? Perché ho notato, io ho fatto tutte le edizioni di Made in Sud, che è un polo napoletano, poi sostanzialmente io ero l'unico di Roma. E come ti sei integrato? Ma i romani secondo me si infilano dappertutto, cioè tu vai al polo nord e il pinguino, e comunque il romano sta dappertutto. Il polo milanese è coperto da Zelig e da Colorado, in Sicilia c'è Sicilia Cabaret, in Puglia c'è Riso Levante, insomma Roma che è un po' la culla della comicità, ricordiamoci Petrolini a suo tempo, ma poi Alberto Sordi, Gigi Proietti. Madre e patria proprio! Allora, dal Seven Show manca un polo vero di comicità, tramite Roberto Cagliani e Laura Barbini, e tramite ovviamente la vostra splendida famiglia che ci ha accolto, proveremo a portare SCQR, l'ancronimo è Sono Comici Questi Romani. Grazie. Caminissimo, il titolo è molto carino. Grazie, grazie, io ho l'onore e il piacere di condurre questa brigata di comici, ci sono molti comici giovani romani, altri comici meno giovani più affermati che faranno un pochettino da chioccia a quelli più giovani, insomma ci sono tutti gli ingredienti per cercare di far ridere Roma e tutti i romani. Bene, quindi bisogna seguirli assolutamente. Vento però si è entrato bene nella veste del conduttore, ha spiegato benissimo tutto ciò che accadrà. Io sto con una maestra, però anch'io nel mio piccolo qualcosa ho condotto. Sei bravo, sei bravo, lo so. Per esempio io conducevo gli anulli, gli anulli, gli anulli, gli anulli del sole, sai, mi sono sbagliato, a me è partito il punto, quindi non sono riuscito a dirla bene, però sostanzialmente mi è capitato di fare già da conduttore. Non so bravo come te e non c'ho i capelli tuoi, ma ci ha metto tutta. Dai, ti lascio allora, e poi parliamo anche del libro e di tant'altro. Ovviamente, ovviamente. Marco Capretti. Grazie, grazie. Buonasera, buonasera. Allora io vorrei, a parte SCQR, parlarvi di una cosa proprio mia che ci tengo tantissimo e quindi voglio coinvolgere anche un pochettino il pubblico con una confessione. Io non sono qui solo per parlare della mia trasmissione, ma anche del mio stato personale. volevo dirvi a tutti quanti che sono fidanzato. Grazie. Grazie. Però me so fidanzato un po' all'insaputa. Sai quando ti fidanzi ma non ti sei accorto perché? Cioè, tipo che ha fatto tutto lei. Io dopo un mese di fidanzamento me so accorto che ero fidanzato. perché questa non andava più via di casa. Mi ha fatto amore, ma scusa, non dovevi andare via? Dice, no, ma io mi trovo tanto bene. Sembra pure a te casa tua. No, questa è casa mia. Dice, ma io qui ho tanti ricordi. Ecco, te ne aggiungo uno. Perché non ti ricordi di andare via? Mo, grazie. Me ne dovevo accorgere prima perché lei a cena non si è presentata che pastarelle, ma con dieci trolley. Tutti pieni di mutande. Signore, io ho casa che è in vasa di mutande. Io non so, ma quante mutande, quante volte ti cambi. Io ho sette mutande. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Oddio, prima di conoscerla c'avevo dodici mutande. Gennaio, febbraio. Mo, quando una ragazza non la conosci prima, la conosci dopo. Io mi so accorto che questa ragazza non mangia la carne. Quindi è vegetariana. E mi porta tutti i giorni dal vegetariano. Do state, è quella? Allora, il vegetariano, ve lo spiego, è quel ristorante dove non vi danno la bistecca con l'insalata. No, vi danno solo l'insalata. E il problema è che la paghi come se ci fosse la bistecca. Mo, io sono andato al vegetariano, ma io non so vegetariano. Quando mi sono presentato il metra, aveva già capito? Quindi mi ha puntato subito a me. E arrivato con tutta una camminata da vegetariano, i capelli vegetariani, si è presentato e mi ha fatto Lei? È vegetariano? So, capri e ti. Bene, questa sera lo chef vegetariano. Voi battete le mani perché siete carini, ma non sapete quello che mi aspetta. Mi fa, lo chef vegetariano propone come antipasto un trionfo di carote, un trionfo di zucchine e un trionfo di melanzane. Ho fatto una sconfitta da bacchio. Dopo tutti sti trionfi, la ragazza mia si dice, amore, almeno un pareggio di salsicce, te prego. Ma la salsiccia è maiale. Ma perché sono musulmani? Lei mi dice, no, sono vegani. I nemici di Goldrake. Come secondo l'imbarazzo della scelta, del Mopur, del Seitan o del Tofu. Amore ne è, Goldrake, si, Pokémon. Mo, me so contentato con la prima cosa che mi è venuta in mente. Una caprese. Quindi aiutatemi. Pomodoro e? No, avessi mai detto mozzarella al vegano. Ma che sei matta? Sei sorzati, uno mi ha sputato. Puh, assassino! La mozzarella, quella fatta con il latte. Ma se la fate col vino, va bene, uguale, non è che io. Tu non sai, senti che mi ha detto, eh? Non sai quanto soffrono quelle povere mucche quando vengono munte. Paola, due giorni non lo sapevo. Pensa che il giorno dopo sono andata una fattoria e io ho chiesto la mucca. Io ho detto, mucca, ma tu soffri. Aspetta, quando vieni munta? Quella mi ha risposto. Mi ha detto, ma che te devo dire? A me mi piace pure. Ma tutto il giorno ti toccano le dette. Nessuno ti dà una bottarella e quella sofferenza. Alla fine mi portano, però mi devi credere, Paolo, un piatto di rughetta senza olio, senza sale, senza aceto. Pure a rughetta stavano in imbarazzo. A rughetta mi ha guardato e mi ha detto, vattene, c'è una pizzeria qua di fuori, scappa. E faccio amore, ma scusa, ma sopra a sta rughetta non c'è sta niente. Perché tu sulla rughetta che ci volevi sopra? I straccetti ci voleva sopra la rughetta, non c'è stato bene, pensi che così. E dice, no, sulla rughetta lo sanno tutti che c'ho un goccio di limone, perché il limone sulla rughetta è la morte sua. No, è la morte mia che c'ho fame. Perché qui c'è il momento più bello, perché vi fa capire la mia ragazza. Io le faccio, amore, andiamo a casa subito, chiediamo il conto perché ho lasciato della bresaula in frigo. Occhio, eh. Lei mi fa, che bresaula mai sono maniata io? Sono maniata la bresaula. E certo, e che vengo a dar vegano a stomaco vuoto? Marendo. A Marendo. Chiudo col metre che ritorna sempre più vegetariano, con i pedalini vegetariani e i mutandi vegetariani. Arriva col conto, fa, allora il conto sono 200 euro, vi offre la cena? E scusa, vi offre il caffè? Io faccio, no, 200 euro mi offre la cena al limite. Lui mi fa, ma no, noi qui abbiamo il caffè senza caffeina, il tè senza teina e il latte senza lattosio. Ho fatto pezzo tutto il portafoglio senza i sordi. Grazie. Bello, bello, bravo Marco. Vengo da te. Bravo, bravo, bravo. È vero, sta diventando un problema, eh, l'alimentazione. Assolutamente, l'alimentazione diventa un problema, soprattutto se hai la ragazza vegetariana. Capito? Perché nel mio caso lo è. Io vi racconto un sacco di cose sulla mia ragazza si guida e se ci vuole. Vero, vero. Senti, hai scritto anche un libro, eccolo qui, ce lo porta il nostro Alessio De Carolis, benissimo. Alessio De Carolis, grazie. Come diceva invece il libro mio, scusa te, lo sei comprato? No, ma non frega. Abbiamo tutto. Allora, facciamolo vedere in camera, ma come si riproducono i puffi, ma pensate. E come mai? Ma io ero indeciso tra un titolo tipo Le ultime lettere di Jacopo Ortiz o La metamorfosi del Kafka, ho scelto Ma come si riproducono i puffi, mi sembrava più alto. Quasi uguale. Mi sembrava più alto. Sostanzialmente non è altro che una delle tante domande strane che si trovano in rete. Ah, è vero. Cioè io sono andato a cercare questi siti, questi portali. Ah, perché tu vai sempre un po' alla ricerca, vero? Sì, sì, della rete sono un po' uno specialista su queste cose. Le domande più strane le ho raccolte per categorie dentro un libro. Ce ne stanno certe fantastiche. No, stavo leggendo questa, è carinissima. Ma Marco Carta è il figlio di Riccardo Fogli? Sì, e Giovanotti è il figlio di Vecchioni? Questa è una delle tante. E quindi dicevi sei andato un po' alla ricerca delle domande strane? Delle domande strane, ovviamente l'ha pubblicato la Rai, Rai Eri, perché poi sostanzialmente era uno dei pezzi che portavo a Made in Sud, appunto, su Rai 2. E quindi c'è questo libro che, se volete comprarlo, posso dirlo, Paola? Come no? Allora, tutto l'incasso va in beneficenza a me. Quindi, ci tengo. Io stavo per dire, ma come sei sensibile? Ma che bella iniziativa notevole! No, no, io ci ho bisogno, quindi bisogna... Allora, leggo un paio? Sì, sì, dai, dai, dai. Che differenza c'è tra le ossa delle cosce del gatto e quelle del coniglio? La domanda è, diaverità, t'hanno da portata al ristorante cinese pure a te? Come faccio a dire alla mia ragazza che sta diventando troppo cicciona? Ecco, lascia sta. Non ti impiccia perché come dici sbagli. Invece gli ha risposto un fenomeno, penso uno dalla banda, dalla Maiana, perché ha detto Prova con una gentile frase ad effetto, del tipo Amore, ma non sei accorto che ti stanno attillati pure ai scensori? Ah, questo io penso sia un turista, questo ha farito solo a me, però va, faccio uguale. Questo è un turista che chiede, dove sono i locali spagnoli a Roma? O sai, hanno risposto a Piazza di Spagna? Giustamente, eh, il nesso c'è. Questo è un bambino che già è fenomeno, fra un po' diventerà campione. Lui dice, se alla mucca di mio nonno gli do un po' di cacao, poi me lo fai il latte al cioccolato? Già si vede che... Però il problema è che ha risposto uno che già è fenomeno, eh. E gli ha detto, è un mese a te no. Gli è un mese che sto da farina al maiale, oh, mica mi ha fatto i panini col salato. Faccio l'ultima? Dai, dai. L'ultima, ah, questo qua, farite, questa farite. Mia moglie ha trovato un video hard sul mio computer, che è una cosa un po' particolare. Come faccio a convincerla che è stato un pirata informatico? Certo, perché a casa tua viene un pirata informatico e ti mette un video proprio a te. È ovvio che tu lo sei scaricato. Uno gli ha risposto, lascia stare donne, sono tutte amalfitate. Pensa, la mia ragazza ha trovato un perizoma nel cruscotto della macchina, mica ci ha creduto se è stato un pirata d'astrata. Marco Capretta, lo facciamolo rivedere, ecco qua. Ma come si riproducono i puffi?